Nella giornata nazionale del sollievo istituita nel 2001 dal Presidente del Consiglio dei Ministri per promuovere e diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza, l'Asla di Teramo ha promosso un approfondimento sui servizi di cure palliative e di terapia del dolore messi a disposizione dall'azienda sanitaria Teramana. A questo riguardo l'Asla di Teramo ha attivato nel 2013 un hospice, attualmente esso è situato in contrada a Casalena, con sette posti letto ed ha come obiettivo quello di dare sollievo alla persona affetta da patologie croniche irreversibili per le quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è più possibile. Il modello organizzativo dell'hospice rispecchia la filosofia di cura fondata sull'ascolto, sulla comprensione dei bisogni e delle aspettative delle persone e delle loro famiglie, fino al lutto, spiega il direttore dell'hospice Claudio Di Bartolomeo. La stessa unità operativa assicura la palliazione anche a domicilio. E' attiva inoltre all'interno dell'ospedale di Teramo l'unità operativa semplice di terapia del dolore, che fa parte del Dipartimento di Emergenza e Urgenza. Si attuano terapie di tutti i tipi e tra queste, una delle poche in Italia, anche l'agopuntura a livello terapeutico. «Sollievo non significa solo affrancamento dal dolore fisico o da altri sintomi», commenta il direttore generale dell'ASL Maurizio Di Giosia. «Significa prendersi cura della persona, nella sua totalità, dal punto di vista fisico, psichico, spirituale e sociale. Per questo l'impegno dell'azienda è ampliare il più possibile l'accesso a queste cure». Grazie a tutti.